Buongiorno a tutti, io sono Lodovica Gullino, l'ospite di questa sessione è la professoressa Stefania De Pascale che come vedete è perfettamente intonata coi colori di Biennale Tecnologie. Biennale Tecnologie è ospite di questa sessione che è organizzata insieme con il Festival Internazionale dell'Agricoltura Coltivato che fin dall'inizio ha collaborato con Biennale e quindi ringrazio tantissimo Biennale per l'ospitalità al nostro festival e dico anche che il nostro festival ha tutto da imparare da Biennale Tecnologie. Quindi grazie veramente di cuore, grazie a voi per essere qua così numerosi, mi piace veramente vedere tanto pubblico e tanti giovani tra il pubblico. Ma mi piace anche vedere persone meno giovani che sicuramente sono interessate a questo tema. Tema dell'agricoltura spaziale che entra perfettamente intonato non solo con i colori della nostra relatrice che io credo possiamo definire la Samantha Cristoforetti dell'agricoltura ma le utopie realiste, se noi pensiamo all'agricoltura spaziale, più utopia realista dell'agricoltura spaziale cosa c'è? Quindi credo che non potessimo come rappresentanti del mondo dell'agricoltura scegliere di meglio. Chi è Stefania De Pascale? Beh lo vedrete tra poco. È una professoressa ordinaria di orticoltura e floricoltura all'Università di Napoli, Portici, che in campo agrario oggi è una delle migliori università italiane, se non la migliore, ed è anche una delle università migliori, sta crescendo tantissimo a livello internazionale. si occupa di ortoagricoltura e floricoltura, si è sempre occupata di aspetti di qualità delle produzioni ortofloricole, ma da 25 anni oramai è partita, è partita, è volata in alto nello spazio e a noi umani diventa sempre più difficile seguirla perché ha cominciato a occuparsi, come vedrete, di agricoltura spaziale. Se ne occupa molto seriamente, con grossi progetti europei, fa parte dell'Agenzia Spaziale del Comitato nel CDA dell'Asi e così come è nel board dell'Accademia dei Giorgofili. Io lascio ovviamente la parola a Stefania, le farò qualche domanda e la prima cosa che voglio chiedere a Stefania è questo. Tra l'altro imposteremo questa ora con una parte introduttiva, la parte poi di spiegazione di quello che fa realmente Stefania, poi passeremo a una parte un pochino più leggera, se vogliamo, personale, per lasciare spazio poi alle vostre domande. Io mi aspetto molte domande dai giovani alla nostra Samantha Cristoforetti. Sebbene, Stefania, ma tu da bambina cosa facevi? Avevi già, guardavi già lo spazio, seguivi gli astronauti. Cosa ti piaceva da bambina? Beh, allora, grazie innanzitutto, buongiorno a tutti e a tutte. Mi fa veramente piacere vedere questo pubblico così numeroso e così eterogeneo in termini anche di età. Allora, innanzitutto, grazie alla Biennale della Tecnologia, grazie a Coltivato e alla collega Maria Lodovica Gollino per questo invito. Cosa facevo da bambina? Cominciamo col dire che rispetto a tutti quanti i giovani che sono qui, io sono nata in un'epoca affascinante, l'epoca in cui è iniziata la corsa allo spazio. Nel 1969, quando c'è stato l'allunaggio, io avevo quattro anni, quindi ero una bimbetta, però l'allunaggio lo ricordo perché è stato un momento che ha tenuto 20 milioni di telespettatori davanti a quelle scatolette all'epoca in bianco e nero, che oggi noi abbiamo in tutte le case, molto più sofisticate. Un momento particolare, quindi la mia vita si è intrecciata con l'inizio dell'esplorazione spaziale. I ragazzi di oggi vivono una nuova epoca, una new space economy, la corsa verso lo spazio è ricominciata e la mia vita personale, la mia carriera si è incrociata con questi momenti strategici dell'esplorazione spaziale. Qui per esempio vediamo la Stazione Spaziale Internazionale, il cui assemblaggio è iniziato nel 1998. Io ero laureata da poco in agraria e a partire dagli anni 2000, più o meno in realtà dal 2010, abbiamo avuto sulla nostra testa un incredibile laboratorio a disposizione di ricercatori di tutte le discipline. Quindi è ovvio che anche in questo caso una circostanza fortuita mi ha portato a guardare verso l'alto. La Stazione Spaziale Internazionale, per chi non lo sapesse, è in realtà dovete immaginare come un grande campo di calcio a 400 chilometri sulla nostra testa. Si trova in quella che noi chiamiamo orbita bassa terrestre. Quindi per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale oggi ci vogliono praticamente meno di quattro ore. Quindi impiegano meno gli astronauti ad arrivare sulla ISS del tempo che io impiego per tornare a Napoli da Torino. Impressionante questo. E sulla Stazione Spaziale Internazionale immaginate l'albergo all inclusive, più caro a cui possiate pensare. Cioè l'equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale vive grazie al rifornimento dalla Terra. Cioè in realtà sulla Stazione Spaziale Internazionale ci sono dei sistemi che si chiamano sistemi rigenerativi, fisico-chimici che servono a rigenerare le risorse ambientali fondamentali per supporto alla vita. Quali? L'aria, l'acqua, però questa rigenerazione è comunque parziale. Sono sistemi che hanno bisogno di rifornimenti, hanno bisogno di filtri, mentre tutto il cibo arriva dalla Terra. Per darvi un esempio, molta dell'acqua utilizzata sulla Stazione Spaziale Internazionale è acqua che viene rigenerata dalla condensa di tutta l'acqua utilizzata, dei fluidi organici. Tant'è vero che gli astronauti raccontano una barzelletta, nel senso che se chiedi a un astronauta com'è il caffè oggi, dice che il caffè oggi è quello di ieri. Ed è stato stimato che Scott Kelly, che è l'astronauta che ha battuto il record di permanenza nello spazio che è stato un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, abbia bevuto qualcosa tipo 730 litri del proprio sudore e urina rigenerati. Ma al di là di questo, in realtà il cibo invece arriva tutto quanto dalla Terra. E lo cosiddetto space food è ovviamente molto migliorato dalle prime missioni rispetto alle ultime spedizioni sulla Stazione Spaziale Internazionale grazie al lavoro condotto da laboratori specializzati sulla ricerca sullo space food di cui uno è stato anche qui a Torino, l'Argotech, ma a proposito di Torino a cui sono particolarmente legata, voglio anche ricordare che il 50% del volume abitabile è stato progettato e realizzato e assemblato dall'Enea Space Italia a Torino. Vi dicevo questo space food è cibo liofilizzato o termostabilizzato, deve avere delle caratteristiche di durata, di shelf life, di almeno 18-24 mesi, deve essere precotto, non si accendono fiamme a bordo, insomma è un cibo che per quanto oggi vi dicevo ci sono dei menu, anche dei menu della festa, Argotech per Samantha Cristoforetti che la professoressa Gullino ha citato, ha preparato proprio dei menu delle feste, però Samantha Cristoforetti se la ricordate nel 2015 quando parlò con Carlo Conti in diretta da Sanremo, quando Carlo Conti le chiese che cosa è che ti manca, lei non disse il fidanzato, l'amica, disse una bella insalata fresca con dei pomodori per dirvi. E tutto questo per che cosa? Per soddisfare il fabbisogno, il supporto per supportare la vita degli astronauti. Posso? Vai certo puoi, scusa io sono logorloica. No no ricordare una cosa, Samantha Cristoforetti è stata laureata, è una laureata onoris causa del Politecnico di Torino e dallo spazio a un certo punto disse ecco qua sotto vedo il Politecnico, quindi la pubblicità del genere al Politecnico è stata incredibile. Una cosa volevo chiederti, praticamente hai già risposto, quindi ti hai detto come eri da bambina, lo spazio, ti sei iscritta ad Agraria, come mai? Dunque, io ho un percorso un po' particolare da questo punto di vista perché io vengo da un liceo classico di centro città a Napoli, quindi senza nessun collegamento con le scienze agrarie e l'agricoltura, se non un collegamento molto lontano perché il papà del mio papà era stato un agrimensore, però non ho nessun tipo di contatto. Quando mi diplomai cominciai a guardarmi intorno, in realtà il mio sogno sarebbe stato fare la giornalista o la scrittrice di libri, quindi mi orientavo tra lettere e giurisprudenza, poi con degli amici andai a visitare la facoltà di Agraria alla regia di Portici e lì fu un amore a prima vista. Mi innamorai della facoltà di Agraria e decisi di iscrivermi ad Agraria e man mano che sono andata avanti negli studi poi mi sono risa conto di aver fatto la scelta giusta e la facoltà di Agraria poi mi ha anche consentito di mettere insieme tutte le mie passioni, compresa quella anche quella dello spazio perché a me piacevano i film di fantascienza, io guardavo con grande interesse tutte le serie fantascientifiche, poi avevo una grande curiosità, abbiamo parlato della stazione spaziale internazionale, tutti quanti immaginate ovviamente noi agronomi, una delle domande che ci pongono più di frequente, crescono le piante nello spazio? La domanda me la sono fatta anch'io. Ecco, il salto dall'orticoltura allo spazio, cosa e chi l'ha determinata? Beh, cosa? La curiosità, la curiosità e io credo che la curiosità sia una delle qualità, per me è una qualità e per qualcuno può diventare anche un difetto, però è quello che poi ti spinge a non fermarti mai nella ricerca, quindi ho fatto il lavoro di ricercatore forse proprio perché ero curiosa e in questo mio percorso post laurea, in realtà io ho trascorso un periodo ad Amsterdam e un periodo all'estero nella Frey University di Amsterdam e lì ho incontrato un ingegnere aerospaziale napoletano, il quale era allievo di Luigi Napolitano, che era un professore famosissimo di fluidodinamica, il padre degli studi in microgravità. Lui ha definito la microgravità, secondo me un termine veramente molto bello, il quarto ambiente, cioè noi siamo abituati ad avere la terra, l'ambiente terrestre, quello acquatico, quello atmosferico e lui ha definito la microgravità il quarto ambiente perché è un ambiente in cui le condizioni fisiche e le leggi fisiche che le regolano cambiano totalmente. Quindi la microgravità è sicuramente uno di quegli ambienti in cui si possono studiare fenomeni che sulla terra sono parzialmente nascosti dalla gravità perché la gravità, tutto quello che si è evoluto sulla terra, tutto quello che di biologico si è evoluto sulla terra si è evoluto in presenza di gravità e assenza di radiazioni. Nello spazio siamo in un ambiente completamente diverso dove la gravità è ridotta quantomeno sui pianeti e assente o quasi, quindi si parla di assenza di gravità o di microgravità a bordo della stazione spaziale internazionale e man mano che ci allontaniamo dalla terra aumentano le radiazioni. Quindi delle sfide completamente diverse rispetto a quelle che le piante affrontano sulla terra. Quindi all'inizio parlando con questo ingegnere oro spaziale che a distanza poi di molti molti anni è diventato il papà di mio figlio, mi ha incuriosito la microgravità, ha cominciato a chiedermi le piante come si comportano in microgravità, ho tornata a Napoli, diventata ricercatore, ho cominciato a fare i primi progetti con l'Agenzia Spaziale Italiana, avere piccoli finanziamenti, abbiamo creato un piccolo gruppo, in realtà un gruppo tutto rosa, forse perché rosa è proprio il colore dei sogni e abbiamo cominciato a fare piccole cose, inizialmente abbiamo lavorato su gravità microgravità simulata a terra, esistono degli apparecchi come i clinostati, le random position machine che consentono di fare studi su piccoli sistemi, poi abbiamo cominciato ad avere le prime opportunità di fare degli studi nello spazio, la prima è stata grazie a un progetto education dell'Agenzia Spaziale Europea, abbiamo fatto volare un esperimento che si chiamava Seisoia perché era un esperimento in cui abbiamo valutato la germinazione di semi di soia in assenza di gravità grazie appunto a un finanziamento ESA a bordo di Photon che era una capsula, mentre invece poi a distanza di Diani nel 2017, grazie a un altro esperimento education finanziato questa volta però dall'Agenzia Spaziale Italiana, Paolo Nespoli ha condotto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale un nostro esperimento che si chiamava Multitrop, cioè Multitropismi, perché? Perché normalmente come vi dicevo alcuni fenomeni vengono mascherati sulla terra dalla presenza di gravità, in assenza di gravità le piante però seguono altri tropismi, nel senso che la chioma si dirige per esempio verso la luce, le radici si dirigono verso l'acqua o verso i nutrienti e questi fenomeni ovviamente laddove non c'è gravità sono più facili da studiare Ecco, allora adesso ci racconti le tue ricerche adesso, soprattutto le racconti a tutti questi ragazzi Sì, assolutamente, con grande piacere, tu fermami quando parlo troppo Allora, è chiaro quindi all'inizio la prima domanda era quella, no? Cioè, le piante crescono in microgravità Ebbene, a questa domanda possiamo dire sì, le piante crescono in microgravità E' ovvio che poi alla curiosità si è aggiunto altro, cioè si è aggiunta la possibilità di studiare le piante e l'agricoltura per qualcosa di più, per supportare l'esplorazione spaziale E quindi ritorniamo a quello che vi stavo raccontando Per supportare la vita di una persona, di un uomo, nello spazio occorrono tra 5 e 15 chili per persona al giorno Perché tra 5 e 15? Dipende un po' dalla strategia di rigenerazione delle risorse di cui vi raccontavo prima Ma dipende anche dalla strategia di utilizzo delle risorse Cioè, se gli astronauti si lavano con una salvietta umida o fanno quanto di più simile a una doccia possiamo immaginare E quindi questo significa qualcosa tra 1,8 e 5,5 tonnellate a persona all'anno Quindi tonnellate di rifornimenti che si muovono dalla Terra verso la stazione spaziale internazionale Però oggi, l'ha detto chiaramente, la NASA, sapete che la NASA ha deciso di ritirare la stazione spaziale internazionale Probabilmente rimarrà un resort per ricconi che vorranno trascorrere un po' di tempo nello spazio Però l'obiettivo della NASA è la Luna e con la NASA si stanno muovendo tutte le agenzie spaziali mondiali Gruppi privati, sicuramente avrete tutti sentito parlare di SpaceX E per andare, quindi per riportare, la NASA dice riporteremo l'uomo sulla Luna Anzi, riporteremo l'uomo ma anche nell'equipaggio ci sarà una donna, ci sarà un afroamericano Lo riporteremo sulla Luna intorno al 2024, avevano detto 2026 probabilmente E per guardare poi ci sarà l'esplorazione della superficie lunare Ci sarà probabilmente una piattaforma orbitante cis lunare, il Gateway E poi in prospettiva si guarda ovviamente verso Marte, verso il pianeta rosso Ora, vi ho raccontato che la stazione spaziale internazionale ha 400 chilometri La Luna già è a una distanza variabile tra 360.000 e 405.000 chilometri Quindi arrivare sulla stazione spaziale internazionale si dice a Napoli è una fumata e sigaretta È una cosa rapida, quindi ci vogliono ore Arrivare sulla Luna dipenderà dal tragitto, dipenderà dal vettore ma parliamo già di giorni Ma quanto è lontano Marte? Marte è a una distanza dalla Terra variabile tra 55 e 400 milioni di chilometri Quindi, perché questa differenza? Perché entrambi i pianeti orbitano intorno al Sole Quindi quando i due pianeti si dice sono in congiunzione, sono più vicini Ma più vicini sono sempre 55 milioni di chilometri Quindi una missione su Marte, anche fatta nel momento più favorevole di allineamento tra i due pianeti Non durerebbe meno di 500 giorni Infatti in gergo la missione su Marte prende il nome di Mars 500 Nel senso che ci vorranno 470 giorni di viaggio andato e ritorno 30 giorni lì sul pianeta, ma non di più perché altrimenti si perde l'allineamento Non so se vi ricordate The Martian, il povero Matt Damon su Marte E quindi, insomma, in tutto questo stiamo parlando di almeno 500 giorni 500 giorni vuol dire risorse dell'ordine di 7,5 tonnellate a persona Perché si parla addirittura di 520 giorni E' un bagaglio che non è né tecnicamente né economicamente sostenibile E allora qual è la soluzione? Il mondo scientifico si è cominciato a interrogare su come rigenerare risorse In modo efficiente come supportare la vita dell'uomo nello spazio E qual è l'idea? Beh, guarda caso, l'idea è Guardiamo un attimo che cosa succede sulla Terra Perché noi ci chiediamo perché le piante nello spazio Ma vogliamo ricordare che la vita sulla Terra esiste perché esiste il mondo vegetale? Le piante sono alla base della nostra vita Sono le piante, il mondo vegetale ha modificato le caratteristiche fisico-chimiche dell'ambiente in cui viviamo E' il mondo vegetale che ci ha consentito, che ha consentito agli organismi animali di evolversi In organismi sempre più complessi fino ad arrivare all'uomo Quindi la Terra, voi sapete, sulla Terra l'approccio è quello di un ecosistema Ora, nell'ecosistema al di là della dimensione, della tipologia di ecosistema ci sono alcuni componenti fondamentali I produttori Chi sono i produttori? Sono appunto gli organismi alla base dell'ecosistema Organismi fotototrofi che sono in grado di creare sostanze organiche a partire da elementi minerali e energia Quindi le piante, le alghe, i cianobatteri come la spirulina Poi abbiamo i decompositori Tutti organismi importantissimi In gran parte microrganismi, ma ce ne sono tanti altri allo studio Che sono in grado di degradare la sostanza organica I rifiuti, gli scarti E di restituire elementi al sistema Dopodiché abbiamo i consumatori, quindi l'equipaggio Allora l'idea qual è? L'idea è quella di ricreare un ecosistema artificiale In cui ci siano produttori, decompositori e i consumatori, cioè l'equipaggio Nell'ambito di questi sistemi, ovviamente le piante, i produttori, hanno un ruolo fondamentale Perché le piante sono in grado di rigenerare l'aria attraverso la fotosintesi Purificare l'acqua attraverso la traspirazione L'acqua traspirata dalle piante, condensata e acqua pure, acqua potabile Sono in grado di produrre cibo Possono utilizzare sostanza organica, gli scarti dell'equipaggio Come nutrienti per la crescita Quindi rispetto anche ad altri produttori Complementari sicuramente come le alghe, come la spirulina Le piante sono le nostre compagne più fedeli E sono i produttori su cui contiamo di più Anche perché chi ha mangiato spirulina, chi ha provato le alghe Al di là di una certa, voglio dire il cibo giapponese Le alghe si possono mangiare in piccole quantità Però la varietà del cibo prodotto dalle piante sicuramente è molto maggiore E quindi si sono cominciati a studiare quelli che sono definiti Sistemi biorigenerativi per il supporto alla vita nello spazio Sono sistemi biorigenerativi Bio perché appunto sono basati su componenti biologiche Rigenerativi perché rigenerano le risorse Di supporto alla vita proprio per sottolineare Che non si tratta solo di produrre cibo Le piante dovranno supportare la vita anche dal punto di vista Di elementi fondamentali per la nostra esistenza Come l'aria e l'acqua Ed è stato calcolato che con un sistema biorigenerativo Che utilizza piante Quando il sistema chiude il 100% Della rigenerazione di aria e acqua È già in grado di produrre il 40-50% Del cibo necessario all'equipaggio E appunto quindi in questi sistemi abbiamo tipicamente Organismi autotrofi, fotoautotrofi, dei compositori e l'equipaggio Noi a Napoli lavoriamo nell'ambito del grande programma Melissa Che è un programma che dal 1987 studia la possibilità di supportare la vita nello spazio Con un approccio ecosistemico nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea E appunto si tratta di mettere a sistema conoscenze di tipo ovviamente interdisciplinare Quindi da un lato sicuramente conoscenze di biologia, conoscenze di agronomia Ma anche molta tecnologia Perché questi sistemi sono dei sistemi chiusi Sono dei sistemi circolari Sono dei sistemi destinati a supportare la vita di quelli che saranno i coloni extra planetari E ovviamente devono essere efficienti e devono essere sicuri Quindi chiaramente la ricerca come sempre si muove a piccoli passi Quindi prima di arrivare su Marte stiamo lavorando alla realizzazione di sistemi In grado di produrre prodotti ortaggi freschi a bordo delle piattaforme orbitanti Abbiamo già citato la stazione spaziale internazionale Domani probabilmente il gateway lunare E in questo caso ovviamente si tratta di integrare l'alimentazione Ecco la domanda soprattutto pensando loro è questo Dov'è che tu fai la tua ricerca? Tu e il tuo gruppo? Noi adesso stiamo lavorando ovviamente in ambito nazionale Lavoriamo molto con l'Agenzia Spaziale Italiana In ambito internazionale con l'Agenzia Spaziale Europea Grazie all'Agenzia Spaziale Europea ma anche con il supporto di ASI Abbiamo realizzato a Napoli un laboratorio per la ricerca sulle piante per lo spazio Che è un laboratorio unico in Europa, uno dei pochi al mondo Che è proprio dedicato alla caratterizzazione, allo studio delle piante Destinate al supporto della vita nello spazio Intanto stiamo lavorando alla realizzazione di piccoli apparati Per integrare l'alimentazione dell'equipaggio oggi sulla ISS Domani si vedrà, qui vedete per esempio Veggie Veggie è una facility della NASA dove vengono coltivati ortaggi In realtà queste facility, queste macchinette, queste camere di crescita In gergo prendono il nome di salad machine Salad machine cioè macchine da insalata Perché ovviamente sulla ISS non c'è possibilità di avere grandi spazi Quindi si coltiva in piccole camere di crescita Il tempo a disposizione è poco L'energia deve essere, l'utilizzazione di energia deve essere ridotta Gli astronauti non hanno tempo per dedicarsi alle piante Quindi per lo più si tratta di coltivare ortaggi Piante da foglia che hanno un ciclo di crescita breve Che hanno dimensioni ridotte, che non hanno grandi esigenze Perciò salad machine E qui per esempio c'è un altro di questi apparati E' l'Advanced Plant Habitat sempre della NASA E' utilizzato, questo è un apparato un pochino più complesso E' utilizzato anche per ricerca a bordo della Stazione Spaziale Internazionale Con l'Agenzia Spaziale Italiana noi stiamo lavorando a un apparato Che si chiama, insieme anche a TALES, Alenia Spazio Torino Alla realizzazione di un apparato che prenderà il nome di Micro4Two Perché è un microgreens for microgravity Cioè è un apparato destinato alla coltivazione di micro ortaggi I cosiddetti microgreens Per il supporto, per l'integrazione dell'alimentazione degli astronauti A bordo della International Space Station Che cosa sono i micro ortaggi? Sono delle piccole piantine Qualcosa che, una via di mezzo tra il germinello e la pianta adulta Quindi crescono in tempi rapidissimi Si producono da semi, da semi di ortive, da semi di aromatiche, da semi di erbace Nell'arco di 2-3 settimane possono essere raccolti e mangiati freschi E hanno il vantaggio di essere ricchi di sostanze biattive Di componenti nutraceutici Molto più sia dei germinelli che delle piante adulte Quindi questo li rende particolarmente adatti Poi hanno, oggi li troviamo tutti in tutti i piatti un po' elaborati Molti chef usano guarnire i piatti con queste erbette Ecco, la mia domanda infatti è questa Abbiamo sentito quello che state facendo per portare le piante nello spazio Quali sono le ricadute della vostra ricerca anche per noi umani, terrestri? Una delle cose che mi piace di più quando parlo di agricoltura spaziale E' che l'agricoltura spaziale ci da la possibilità di parlare di agricoltura terrestre Quali sono le ricadute? Innanzitutto ovviamente ci sono grandi ricadute in termini di conoscenze E grandi ricadute in termini di tecnologie E' ovvio che, io dico sempre che la ricerca sulle piante per lo spazio guadagnerà spazio alle piante sulla terra E' ovvio che se noi dobbiamo pensare a un ambiente ostile Quale ambiente più ostile dello spazio? Quindi tecnologie e conoscenze che ci consentono di coltivare in un ambiente ostile come l'ambiente spaziale Ci potranno consentire di coltivare in ambienti estremi sulla terra I poli, i deserti, perché no anche le grandi città, le nostre megalopoli Quindi non solo vogliamo ricordare che per esempio le vertical farm, l'illuminazione artificiale a led Sono strategie di coltivazione, approcci e tecnologie che sono nati pensando all'agricoltura spaziale Ovviamente un'altra cosa fondamentale secondo me è che l'agricoltura spaziale riporta l'attenzione su una cosa fondamentale Nello spazio, io dico, parafrasando un po' un detto marinaro, nello spazio non ci sono taverne Lo spazio non ha risorse, quello che c'è dal punto di vista del supporto alla vita lo dobbiamo portare con noi E quindi le risorse vanno utilizzate con grande attenzione Rigenerare è la chiave di volta, circolarità è un elemento fondamentale Questo è necessario nello spazio ma oggi è anche un desiderata nell'agricoltura terrestre Quindi imparare a utilizzare meglio le nostre risorse perché la Terra non è solamente il pianeta A La Terra è un pianeta meraviglioso, cioè Marte, noi non lo dobbiamo immaginare come un pianeta B di fuga Perché abbiamo utilizzato tutto quello che potevamo utilizzare sulla Terra Noi dobbiamo imparare invece a rispettare il nostro pianeta e utilizzare al meglio le nostre risorse Risorse qui, quindi anche tutte le strategie di utilizzazione per esempio dell'acqua Per risparmiare risorse idriche, l'utilizzazione per esempio della sostanza organica Al posto dei fertilizzanti minerali per la nutrizione delle piante Noi lavoriamo per esempio anche molto all'utilizzazione, lo so, è un argomento non tanto carino a quest'ora Ma l'utilizzazione dell'urina per la coltivazione delle piante Cioè ci sono tutta una serie di ricerche di frontiera che noi ci auguriamo possano Oppure il recupero di suoli degradati, di suoli non fertili Noi stiamo lavorando all'utilizzazione della regolite lunare e marziana per la coltivazione delle piante Che cos'è la regolite? E' quello strato polveroso, esclusivamente minerale che ricopre l'una e Marte Non sono suoli, non hanno sostanza organica, non c'è niente a base di carbonio Quindi quei suoli, quella regolite va totalmente modificata nelle caratteristiche fisico-chimiche Nelle caratteristiche di fertilità, ci va aggiunta sostanza organica, vanno corretti alcuni difetti Questo ci consentirà di imparare a coltivare per esempio, perché no, nel deserto O a utilizzare meglio i nostri fertili suoli terrestri Insomma, chiaramente noi non lavoriamo su regolite lunare e marziana Ma sui cosiddetti simulanti di regolite lunare e marziana Che sono stati ottenuti grazie alle ricerche condotte dalla NASA negli anni Quindi è tutta una serie di informazioni Quindi un laboratorio per il futuro Dove immagino ci siano interventi di tantissime discipline Quindi multidisciplinare al massimo I tuoi progetti futuri? Beh, i miei progetti futuri Allora, io in realtà il mio progetto futuro è quello di scrivere un libro Sull'agricoltura spaziale Cioè di utilizzare la mia esperienza ancora una volta Per parlare di agricoltura Per parlare di piante Per parlare di sostenibilità E per parlare di futuro In realtà è stato mio figlio che ha deciso che dobbiamo scrivere un libro Sull'agricoltura spaziale Perché lui ogni tanto mi accompagna Si interessa molto a questa cosa Voleva scrivere il libro con me E ci è rimasto male Che poi alla fine l'ho scritto senza di lui Però poi Poi mi auguro che con lui Scriveremo anche qualcosa per i bambini della sua età Perché secondo me questi temi Sono temi che interessano, incuriosiscono E il fatto che interessino, incuriosiscono Ci dà la possibilità di andare oltre E di parlare, come ti dicevo Di qualche cosa che non è esclusivamente legato allo spazio Ma è legato alla necessità di costruire per tutti noi Di costruire per tutti loro un futuro più sostenibile Ecco adesso passerei a una parte un pochino più se vogliamo Sempre legata al tuo lavoro ma più personale Ci hai già detto che hai un gruppo di ricerca molto rosa E mi sembra una cosa meritevole e interessante Abbiamo visto nei giorni scorsi Siamo rimasti un po' colpiti a vedere Quella foto della nuova agenzia per il farmaco In cui erano fotografati E molto fieri di sé Dieci colleghi, tutti maschi Manca una donna Ma loro di questo non hanno preso Non se ne erano manco accorti Tutto sommato credo che nel mondo dell'agricoltura Tu appartieni a un settore, l'ortofloricoltura Che ha fatto un po' da sfondamento Perché credo che i primi professori ordinari Siano proprio venuti fuori in questo campo Forse qualcuno pensava Beh mettiamo l'ortofloricoltura I fiori vanno bene per le donne Poi in realtà queste pioniere hanno dimostrato Che non è che si occupassero Come forse si poteva pensare Solo di fiori Ma si sono occupate di fiori di orticoltura Ma in maniera decisa Mi sembra anche di aver visto entrare prima Una collega tua Che credo possa essere veramente definita Una pioniera nell'ortofloricoltura La professoressa Catti Che adesso non vedo Sì io la vedo E che vi ha aperto la strada Proprio con il suo esempio E con la sua capacità di lavoro e di organizzazione Quante donne ci sono Nell'ambito in cui tu lavori Andando verso lo spazio C'è un... Beh allora tu hai citato sicuramente Un momento importante della mia carriera Che è l'incontro con Torino E con Elena Accati Che è lì E che saluto con affetto Io ho studiato a Torino Insomma dopo la laurea Per passione e per curiosità Ancora una volta Ho fatto un corso di perfezionamento qui Una scuola di specializzazione E poi sono laureata Al Politecnico di Torino D'architettura del paesaggio Perché ho preso una seconda laurea Nel meraviglioso parco del Valentino Quindi un'esperienza bellissima Fatta insieme a Elena A cui sono rimasta legata Come dicevi Inizialmente abbiamo dovuto sgomitare Perché in teoria avremmo dovuto fare Tutte quante solo fiori Invece abbiamo cominciato a fare anche opere di bene Come si dice a Napoli Nel senso che abbiamo cominciato a lavorare ad altro E lo spazio ovviamente non è da meno Cioè voglio dire Gli ambienti Le donne sgomitano un po' dovunque Un po' dovunque Oggi però Devo dire che Una donna Che è in grado di dimostrare Di avere passione Capacità Di impegnarsi Ha forse qualche possibilità in più Rispetto alle possibilità che avevamo noi Perché quanto meno Può fare quello che dici tu Cioè può additare Laddove Non si consideri proprio La presenza La necessità Di un sistema decisionale Che sia Al di là di tutto Oggi ne parliamo sempre Delle quote rosa Ma non è solo questo I sistemi decisionali Devono essere Resilienti E la resilienza L'adattabilità È data dalla varietà Quindi anche avere Approcci di genere diversi Di età diverse Di competenze diverse Arricchisce Qualunque sistema Quindi questa è una cosa Che deve essere chiara Per tutti Secondo me Io mi sono sempre trovata bene A lavorare con 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 le donne Devo ammettere Che È inutile che ci nascondiamo Dietro un dito Oggi È ancora difficile Per noi donne Conciliare I diversi aspetti Della nostra vita La società ancora Ci chiede Di occuparci In modo quasi esclusivo Della famiglia Dei figli Io per esempio Sono diventata madre In età Io sono una mamma Tardiva E tardona Perché Il lavoro Mi ha sicuramente Distratto Quindi ho scoperto Però Tardi La maternità Un'esperienza bellissima È chiaro che Da un lato La mia energia Non è certo di quella Di una giovane mamma Dall'altro però Ho anche Sicuramente una sicurezza economica Una stabilità di lavoro Una consapevolezza Un'esperienza Che quando ero giovane Non avevo E che spero Mi aiuterà Nell'educazione Di mio figlio Ancora una domanda personale E una mia curiosità Perché io seguo Stefania Non solo nel suo lavoro Ma anche sui social Dove lei è presente Non tantissimo Ma tu quante sorelle hai Perché compaiono Queste foto Di compleanni Hai un sacco di sorelle E cosa fanno Le tue sorelle Tutte bellissime Tra l'altro E visto che C'è questo fatto Del rosa Noi siamo Quattro sorelle Io sono la sorella La più grande Ma avete dei fratelli anche Allora Papà E mamma Si sono separati Giovani All'epoca Non era neanche Tanto diffuso E il mio papà Poi ha avuto Un altro figlio Con una seconda compagna E quindi ho un fratello Ce l'abbiamo Alla quota azzurra Ce l'abbiamo Alla quota azzurra Noi quattro Siamo molto vicine D'età Cioè mia madre Ha fatto Io sono la prima Ma nell'arco Praticamente I primi tre anni Dopo tre anni Aveva tre figlie Cioè siamo La quarta Poi è arrivata Con un pochino Di distanza Ci somigliamo Molto fisicamente Per questo ti confondi Ogni tanto Nelle foto Caratterialmente Assolutamente no Però andiamo Molto d'accordo È molto bello Le famiglie numerose Sono belle Oggi Quando ero ragazza Io mi nascondevo Nell'armadio Qualche volta Per leggere Perché c'era Tutta sempre Tanta gente C'era sempre Tanta confusione Però oggi Sono contenta Di avere tre sorelle Quindi siete quattro Sì Ecco Siamo quattro Più questo Appunto questo fratello Molto più giovane Di noi In netta minoranza E poi so anche Che hai un cugino Attore Giusto? Sì Ho un cugino Attore Molto bello Bellissimo Bellissimo Un cugino Attore Ma che Tra l'altro Contrariamente A quello che uno Può immaginare Lui aveva deciso Di fare l'attore Quando era ragazzino Aveva un futuro Più o meno Assicurato Nel tennis Perché era un grande Giocatore di tennis Andava bene a scuola Con grande disappunto Dei genitori Decide di imbarcarsi Nella carriera Di attore E con grande impegno Senza Devo dire Alcun aiuto dall'esterno Ci è riuscito Oggi è felicissimo Ed è Giacomo Giorgio Qualcuno forse Lo conoscerà come Ciro Oppure come Lorenzo Oppure nel Più recente Doc Insomma Comunque Sì Allora Adesso Dopo questa parentesi Così un po' Più lieve Io Tanto ringrazio Stefania Per la sua Presentazione E lascerei lo spazio Alle domande Le facciamo un bel applauso Adesso tocca a voi Buongiorno Nello spazio È stato preso In considerazione Il problema Dell'impolinazione Dei fiori Cosa che sulla terra Stanno andando In modo critico Per la sparizione Delle arti Eccetera Allora certo Sì sì Sicuramente Uno dei problemi Che è stato preso In considerazione Nella Per la coltivazione Ovviamente Per la coltivazione Sulla stazione spaziale Internazionale Uno dei motivi Per cui si prediligono Le piante da foglie Che non hanno Neanche il problema Di dover andare Alla fase Riproduttiva Chiaramente Per quanto riguarda L'impollinazione Partono dal seme Sì La maggior parte Sì Noi stiamo lavorando Con Talessa Lenea spazio In un progetto Che si chiama PF Alla realizzazione Di un sistema Modulare Per la coltivazione Di patata In microgravità E chiaramente In questo caso Partiamo da tuberi Seme Però normalmente Insomma Si parte Si parte Da seme È ovvio Che l'impollinazione Laddove È Impollinazione Diciamo Entomofila Creerà un problema Quindi le specie Che necessitano Che hanno Particolari Esigenze In termini Di impollinazione All'inizio Dovranno essere Scartate Oppure dovranno Essere preferite Delle varietà Che hanno Che sono più semplici Come impollinazione Però È stata coltivata Zigna È stato coltivato Pomodoro È stato coltivato Il grano Cioè Alla fine Oggi Con Delle strategie Con una selezione Delle cultivar Con strategie Di coltivazione Con tecnologie Si riesce Ad arrivare Anche a frutto Sì perché Senza pensare Alla riproduzione Ma anche Certa frutta Ha bisogno Delle impollinazione No no Assolutamente Sì Infatti Si sono studiati Diciamo I cicli Da seme A seme All'inizio C'erano dei problemi Le prime Coltivazioni Di piante Che necessitavano Di un passaggio Successivo Quindi alla fase Riproduttiva Hanno Avuto problemi Neanche perché C'è una Concomitanza Di problemi Da un lato Il discorso Dei piccoli volumi Ma anche Dei ridotti Movimenti D'aria Per cui Si sono dovuti Mettere appunto Una serie di Stratagemi Però coltivare In microgravità Utilizzando Oggi Tecnologie Particolari È una cosa Che si Riesce a fare In assenza Di gravità Il polline Non sa dove va Vola No Perciò Dico Bisogna Bisogna Trovare Bisogna Trovare C'è una Selezione Non è che Si potrà Coltivare Di tutto Noi Lavoriamo Molto Alla selezione Della specie Nell'ambito Della specie La selezione Delle cultivar Più idonee Per esempio Nel caso Del pomodoro È stato coltivato Microtom A bordo Della stazione Spaziale Internazionale Poi ci auguriamo Anche che il miglioramento Genetico Porti Anche alla Costituzione Di materiale Genetico Adatto A certe tipologie Di ambienti Non è facile Perché Tra l'altro Una cosa Abbiamo parlato Della stazione Spaziale Internazionale Ho parlato Dell'insalata Soprattutto Quindi di questa Integrazione Di cibo Ma se pensiamo Alle colonie Spaziali Ovviamente Lì non potremo Vivere Di insalate Quindi Le colture A cui si guarda Sono le colture Alla base Dell'alimentazione Dell'uomo Sulla terra Quindi I grandi Raggruppamenti I cereali Le leguminose E le piante Da tubero E quindi Bisogna affrontare Delle sfide Di adattamento Che non sono banali Perché queste colture Tipicamente Sulla terra Vengono coltivate In piena terra All'aria aperta Invece lì Dovranno essere coltivate In habitat Chiusi Da qua Il nostro lavoro Di caratterizzazione E di messa a punto Delle tecnologie Più adatte Per coltivarle Io volevo chiedere Una cosa Riguardante Le radiazioni Siccome Il problema Le radiazioni È molto influente Sia sui vettori Che negli altri pianeti Come Ci si approccia A risolverlo Cioè Si utilizzano OGM Oppure Altre piante Che vanificano Le radiazioni No Chiaramente Io Non sono Un'esperta Di shielding Però È chiaro Che Dimentichiamo Le serre Come Siamo abituati A vederle Sulla terra Gli habitat Planetari Saranno Degli habitat Chiusi E dovranno Essere schermati Cioè Ci dovrà essere Una protezione Uno scudo Uno shielding Dalle radiazioni Questo shielding Si sta studiando Cioè Gli ingegneri Stanno studiando I materiali Più idonei A schermare Dalle radiazioni Ci sono diverse ipotesi Ve ne dico qualcuna Per esempio Coprire Questi habitat Di regolite E sembra che Uno strato Di un metro Di regolite Possa essere Sufficiente A schermare L'habitat Oppure Ghiaccio Oppure Nuovi materiali A base Di carbonio Che si stanno Mettendo a punto Però dovranno Essere tutti quanti Schermati Le radiazioni Sono al momento L'aspetto critico Dell'esplorazione Non tanto Più per l'uomo Ovviamente Che per le piante Le piante Gli organismi vegetali Sono più Toleranti Alle radiazioni Degli organismi animali Ciò non sta Anzi A piccole dosi Sulle piante Le radiazioni Determinano Addirittura Degli effetti Diciamo Positivi In termini Di qualità Del prodotto In alcuni aspetti Della crescita Però Comunque Bisognerà Avere Degli habitat Assolutamente Protetti Schermati Buongiorno Buongiorno A tutti Prima di tutto Scusa Per la mia italiana Sto ancora Imparando Where are you from? Sono da Iran Iraniano My Iranian Is much Worse Than Your Italian Allora Vorrei sapere Come Confrontiamo Il problema Di incertezza Quando siamo In fase Di Simulazione Grazie Problema di incertezza In Aerospezia Quando Stiamo Simulando Non so Se ho Capito bene La domanda Ovviamente Uno dei Problemi È che I sistemi Biologici Sono Sistemi Più difficili Da controllare Rispetto Ai sistemi Fisico-chimici È ovvio Che Soprattutto Nelle fasi Iniziali Ci saranno Sempre Dei sistemi Di backup Quindi Le varie Tipologie Di sistemi Lavoreranno In contemporanea Ora È chiaro Non è Materia mia Ma è sicuro Che per esempio La missione Artemis Sulla Luna Ci darà La possibilità Di studiare Quindi Ci darà Una piattaforma Di ricerca Di valutazione Che Ci consentirà Poi Anche Di Guardare Con più Certezza Verso Il futuro Perché Uno dei problemi Di qualunque Tipo di ricerca Sullo spazio E poi Di lavorare Nello spazio Non è facilissimo Provare Tutti i sistemi Tutte le tecnologie Tutte le strategie Nello spazio Ora Ci auguriamo Che questa Ripresa Dell'esplorazione Spaziale Che La colonizzazione Della Luna Dia la possibilità Di studiare In modo Congiunto Tutte le tecnologie Per trovare Diciamo Il sistema Migliore Da portare Poi Più lontano Buongiorno Allora Io avrei due domande Anche perché Nell'ambito Della biennale Si è parlato Di piante Anche in altre Conferenze A cui ho partecipato Che sono andata A vedere Quindi La prima È riguardo L'utilizzo Di Serre verticali Adattive Cioè Hanno Effettivamente Un utilizzo Cioè Pragmatico Anche sul lungo Termine Oppure ci servono Soltanto In alcuni casi Perché Mi sembra di capire Che L'obiettivo Primario Sarebbe quello Di riuscire a coltivare Anche sul terreno Di un altro pianeta Mentre invece L'altra domanda È più Su un'applicazione Dell'agricoltura spaziale Ma Sul migliorare L'agricoltura Qui sulla terra Perché Ho sentito Di questo esperimento Dove Sono state portate Delle piante Di vite Nello spazio E sono risultate Essere Più prestanti Poi successivamente E poi sono state Riportate a terra Ma Il mio dubbio era Dopo Cioè Un tot di tempo Sulla terra Cioè Se ritornano Nelle condizioni standard In cui siamo abituati Cioè Non hanno una specie Di regressione Non si riabituano In qualche modo Oppure Cioè Rimangono così Ecco Questo era un dubbio Allora Due domande Ognuna di queste domande Due domande abbastanza complesse Ma andiamo con ordine Vertical farm Il vertical farm L'idea di coltivare In verticale Nello spazio Nasce ovviamente Per Perché Poiché noi comunque Nello spazio Dovremmo utilizzare Illuminazione artificiale A quel punto Perché non ottimizzare L'utilizzazione Del Dei volumi disponibili E quindi Poiché è stato stimato Che Per produrre Il 90% Del necessario Per un uomo Ci vorrebbero Circa La NASA dice 43 metri quadrati Di coltivazione Se noi li riusciamo A mettere In verticale Visto che nello spazio Ci cambia poco Riusciamo a A aumentare L'efficienza Del Dell'utilizzazione Dello spazio Ora La serra Adattativa Di cui Parlavi Penso che sia Quella Di Genova No? Quella Dell'amico Malerba Di Franco Malerba Quella Quella Nasce un po' più Come applicazione Terrestre O meglio Nasce per Come applicazioni Eventuali Su piattaforme Quindi su ISS Quindi non parliamo Di basi planetarie Perché Sulle basi planetarie Stiamo valutando Se conviene Utilizzare Regolite O conviene Coltivare Direttamente Su soluzioni Nutritive Cioè non è che Siamo Siamo orientati Verso la Regolite Però la Regolite Potrebbe essere Un substrato Al momento C'è ancora Un trade off Da fare Tra i vari Sistemi Ma ci ho detto Nel caso Della serra Space V Questa serra Adattiva Il discorso È più legato All'utilizzazione Su una piattaforma Tipo Stazione Spaziale Internazionale Dove lo spazio È ridotto Per cui Il fatto di avere La possibilità Di modulare I diversi strati Consentirebbe Di coltivare Aumentando Ancora di più L'efficienza D'uso Dello spazio Oppure L'idea È anche quella Di trasformare Queste tecnologie In qualcosa Di applicabile In ambito terrestre Alle coltivazioni In verticale Per quanto riguarda Invece Il discorso Aspetta La seconda domanda Era sulle piante Di vite Allora C'è un grande interesse Potete immaginare Che lo spazio È anche Un ambiente Di marketing Avete visto Lavazza Ha fatto una macchinetta Del caffè Studiata appositamente Per funzionare In microgravità Samantha Cristoforetti Ha bevuto L'espresso Lavazza L'ISS espresso Sulla stazione Spaziale internazionale I francesi Avevano mandato Già delle bottiglie Di vino Di Bordeaux Sulla stazione Spaziale internazionale Poi Noi italiani Con il CRE Abbiamo mandato L'olio extravergine Di oliva Un panettone Noi abbiamo mandato Sì Allora È chiaro che c'è un misto Da un lato Un po' il discorso Di marketing Dall'altro Ci sono In alcuni casi Ci sono Degli argomentazioni Scientifiche Una delle cose Che si Su Olio e vino Una delle cose Che si è studiato È Si sa che lo spazio Accelera L'invecchiamento È questo Di tutti i sistemi biologici E quindi Questo fenomeno Su alcuni prodotti Su cui l'invecchiamento Può avere Un effetto positivo Il vino Ma lo stesso olio Può cambiare Organoletticamente Vediamo Che cosa succede E in realtà Non sappiamo molto Dei risultati Quando sono tornate Le bottiglie di vino La prima bottiglia di vino Che hanno venduto So solamente Che ha ripagato Il costo Del volo L'hanno battuto all'asta Ma so Che c'è un grande interesse Pure dei collezionisti Però C'è una Questa base scientifica Sulle Barbatelle Di vite Io in realtà Non so Quanto ci sia Ancora disponibile Di risultati Ma l'idea È quella Di studiare I fenomeni Che si chiamano Ormesi Cioè Il fatto che Questi sistemi biologici Vengano sottoposti A radiazioni Più che altro Perché non è il discorso Della microgravità Anche sulla stazione Spaziale internazionale Ci sono un po' più Di radiazioni Man mano che ci allontaniamo Dalla terra Aumentano le radiazioni Sottoporre A dosi Di radiazioni basse Per periodi di tempo Non elevatissimi Un sistema vegetale Può determinare Un incremento Di crescita Delle performance Un po' più positive Questo fenomeno Ovviamente È un fenomeno Che è temporaneo Cioè Tutto nel caso Di propagazione vegetativa Quindi là dove Non è I cinesi hanno detto Di aver mandato Dei semi E che hanno avuto Dei risultati Ma sono Queste però Sono un po' più favole Allora Purtroppo Dobbiamo chiudere Perché i tempi Di biennale Chiaramente Chiaramente lo siamo Stretti E ci sono altre sessioni Io so che tutti quanti Stareste ancora delle ore Ad ascoltare Stefania Ma la professoressa De Pascale La ritroverete Al festival Dell'agricoltura Coltivato A marzo Del 2025 Quindi Vi invito Tutti quanti A venire Grazie 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 a tutti